A 13 anni legai bene il mio libro di matematica che per me era la materia più difficile, fece un grosso nodo perché non si aprisse più e mi misi a lavorare. Ci sono scienziati che si consumano la vista sul microscopio e sulle pagine dei libri. Io mi sono rovinata la vista copiando le sfumature di colore dei miei fiori. Presi in affitto un orticello dove la mia passione faceva sbocciare i fiori come fossero bambini e dopo 126 incroci ottenni una rosa che ho chiamato Primatrice. Certo la giornata era dura e le ore di riposo erano poche ma intanto Primatrice vinceva gare e gare. Quanto era bella! Non facevo che guardarla. Me la sarei guardata eternamente. Avrei voluto vederla solo io e magari nasconderla nella mente mia. Ma cose di gioventù. Adesso ho comprato un parco dove si passeggia a pagamento e ogni giorno a seconda dei fiori che sono sbocciati faccio pagare di più o di meno. Commento. Più l'individuo è evoluto più ha influenza sulle vite inferiori all'umana come sono i fiori. Ed ecco il pollice verde.